I palloncini colorati, le risate, le voci dei bambini hanno subito creato un'atmosfera di festa, un clima di allegria al quale non si assisteva da mesi. Teatro di questa speciale giornata, il padiglione 2 dell'area fiera di Lanciano, allestito per ospitare la prima edizione del concorso C'era una volta l'acqua, indetto dalla Sasi e rivolto ai bambini della scuola primaria. Il presidente Gianfranco Basterebbe, che insieme al CDA, ha fortemente voluto questo progetto. Ringrazio anche i plessi, i responsabili dei plessi, i dirigenti, le maestre, i bambini stessi, per aver profuso questo sforzo in un momento difficilissimo. Stavamo decidendo di spostarlo all'anno prossimo, però per dare anche verso questo senso un contributo reale, abbiamo insistito e nell'ultimo giorno utile abbiamo voluto far coincidere questa premiazione alla presenza di tutti i bambini che si sono impegnati su questa vicenda. La manifestazione si è aperta con la proiezione di un video, con tutti gli elaborati grafici arrivati sul tavolo della commissione, presieduta dallo scrittore Remo Rapino, vincitore del 58esimo premio Campiello ed ex professore di storia e filosofia, che ha tenuto a ribadire il ruolo fondamentale della scuola nella formazione e l'educazione delle nuove generazioni. Questo concorso è stato molto utile dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista della conoscenza. Io ho imparato molto da questi bambini perché sono riusciti a cogliere il problema nel modo più bello e più fantasioso possibile. La commissione ha lavorato con molta leggerezza e con molta attenzione nello stesso tempo. Non è stato faticoso, ma è stato molto produttivo e interessante per tutti. E soprattutto ha dimostrato che le istituzioni, in questo caso la Sasi e la scuola, come luogo di cultura, di formazione civile, di coscienza civile, sono elementi fondamentali per la crescita e lo sviluppo in senso positivo della nostra società. Premiati prima i racconti riservati alle quarte e le quinte, a giudicarsi il primo gradino del podio, la scuola primaria con le mici di Paglietta, premi anche alle scuole di Arielli, Vasto, San Vito e Orsogna. A fare la parte dei leoni nelle altre categorie sono stati gli alunni di Atessa, premi anche a classi di Lanciano e Orsogna, menzioni speciali agli alunni delle scuole di Pollutri e Olmo di Riccio.